Ci uniamo alla soddisfazione espressa da CNA nazionale e regionale per l'approvazione del programma Transizione 5.0, a sostegno delle imprese che effettuano investimenti in ambito di innovazione e efficienza energetica, digitalizzazione e soprattutto per l'installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili per l'autoconsumo, dichiara il direttore CNA Piemonte Nord Marco Pasquino. Questo risultato... Abbonati a soli 9,90€ all'anno! Autosalone tedeschi, concessionari a Suzuki per il VCO, a piedi mulera.